Sei un cuoco e ti ci sono voluti 19 ore per facere un filone di tale, Steven O'Kinan con più successo con 300 metri E tu? Lo sai che la tua amica è andata fino a Manhattan a bombardare di cupcake l'hotel di Kim Kardashian mentre tu stai con la straiata, ma non devi fare il pee, la proteggo quasi tutta Assurdo, è tutto il giorno che stai lì, infatti dai